Siamo in Piazza Italia con il Presidente che ha la proluogo di Taurio Nuovo nel cuore. Buonasera dottore, io veramente la voglio ringraziare con il Taurio Nuovo. Sono due giorni che vi sto lavorando, avete portato allo splendore di questa bellissima fontana che ci complimenti e questo è anche un segnale del cuore. La proluogo veramente di Taurio Nuovo, funziona veramente. Ci mettete veramente con il vostro lavoro. Dottore, se hai giocato il mezzo, ci vuol dire qualcosa? Il ringraziamento va fatto ai ragazzi della proluogo, io li assisto ma non partecipo in maniera attiva ai lavori. Perché questi lavori? Noi ci stiamo preparando un evento particolare che è la prima infiorata, la prima edizione della Noto infioratoria nuova che si rivolgerà dal 3 al 5 giugno. Quindi in città ci saranno gli infioratori di Noto, ci saranno 20-25 ragazzi infioratori di Noto che verranno qui a realizzare quello che già loro hanno fatto a Noto 30 anni fa assistiti dalla comunità di Gensano. Quindi questo è un evento particolare perché porta il nome di Taurio Nuovo fuori di quelli che sono i vicini locali. Perché la fontana? Perché la fontana si trova al centro della piazza dove si trova già infiamata e diciamo che da nemmeno Stato non consono a quello che sarà la manifestazione perché abbiamo chiesto l'autorizzazione al Comune come proluogo di poterla sistemare ma anche gestire non solo per la manifestazione in sé per sé ma anche per il futuro. Dottore chiedo scusa, e allora martedì c'è la conferenza stampa? No, lunedì 2 ci sarà la conferenza stampa presso la nostra sede dove verrà presentato l'evento dell'infiorata ci sarà il nostro sindaco l'ingegnere Fazzuccionci, l'assessore alla cultura della realità il Dottor Ramberti Castronuovo l'assessore comunale allo sport e allo spettacolo il Dottor Raffaele Loprete ci sarà il presidente regionale il Dottor Ruperto dell'Umbria che noi lo salutiamo, il nostro amico, il nostro amico e concluderà ci sarà anche la presenza dell'Onorevole Cannezzaro che è delegato al testo del Consiglio regionale e delegato provinciale per quanto riguarda le associazioni e quindi anche per quanto riguarda le proprie. Quindi la manifestazione è patrocinata del Comune di Torrianova? Sì, abbiamo il patrocinio del Comune di Torrianova e della provincia. Allora noi ringraziamo il Dottore, invitiamo a tutti i torronovesi nei paesi della Piana di venire a questo grosso evento, ci saranno veramente cose da vedere. Voglio aggiungere che sarà, a prescindere dalla manifestazione in sé per sé che deve essere degli aspetti di tipo sia artistico che culturale nelle giornate verranno organizzate le manifestazioni sia di tipo artistico che di tipo musicale anche per allietare insomma dopo la versione dell'infiorata le persone. Ok, grazie tanto. Buona serata Dottore, grazie. 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 Grazie.